Che cos'è un infarto miocardico con elevazione del tratto ST? Un infarto del miocardio, mi, comunemente indicato come infarto, si verifica se l'arteria coronaria di un paziente, un'arteria che si avvolge attorno al cuore e fornisce l'afflusso di sangue ad esso, è bloccata in una certa misura da un coagulo di sangue. In un infarto miocardico con elevazione del tratto ST, STEMI, l'arteria coronaria del paziente è completamente bloccata. Una volta interrotto l'afflusso di sangue, il tessuto cardiaco che è stato rifornito di sangue dall'arteria coronaria può, se non trattato, infarto, un'altra parola per morire. Il movimento del battito cardiaco è spesso misurato da un ecocardiogramma, elettrocardiogramma, un dispositivo che misura gli impulsi elettrici provenienti dal cuore e utilizza determinate lettere per etichettare le parti del processo. La ST in infarto miocardico con innalzamento del tratto ST e la porzione del battito cardiaco dove dovrebbe esserci poca o nessuna attività elettrica, di solito appare come una linea piatta su un grafico elettrocardiografico. Quando il segmento ST di un paziente è elevato, indica che c'è attività elettrica, e questo a sua volta di solito indica che c'è mancanza di flusso di sangue al cuore. Ci sono due sottocategorie di infarto del miocardio, infarto miocardico con elevazione del tratto ST, STEMI, e infarto miocardico con elevazione non ST, NSTMI. NSTMI è il meno grave dei due, poiché indica solo un blocco parziale dell'arteria coronaria, lo STEMI è un blocco completo. Sia STEMI che NSTMI hanno spesso sintomi simili ma sono trattati in modo leggermente diverso, a seconda del livello di gravità. I sintomi tipici sia di STEMI che di NSTMI sono improvvisi dolori al petto che solitamente si irradiano sul lato sinistro del collo e lungo il braccio sinistro, mancanza di respiro, ansia e sudorazione. Ci potrebbero essere anche nausea, vomito e palpitazioni. Possono anche non esserci sintomi o ciò che è noto come un mi silenzioso. Questo accade circa il 25% delle volte. È anche importante sapere che le donne di solito non hanno gli stessi sintomi tipici degli uomini, spesso hanno indigestione, debolezza, nausea e mancanza di respiro. Il trattamento per un infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto AST è solitamente associato a farmaci che degradano il coagulo, un processo noto come trombolisi. I farmaci contengono enzimi che interferiscono con le fibre che formano i coaguli, alla fine rompendoli e liberando l'arteria. Se è più grave, viene eseguita una procedura nota come angioplastica. L'angioplastica, chiamata intervento coronarico per cutaneo quando viene eseguita sul cuore, è una procedura chirurgica che allarga i vasi sanguigni inserendo un catetera e un palloncino in essi. Il pallone viene espanso per allargare la nave e rompere i depositi che causano il blocco. NSTMI viene trattato con farmaci per mantenere aperte le arterie. A volte viene eseguita la chirurgia per intervento coronarico per cutaneo, in genere quando un paziente arriva per la prima volta in ospedale se il blocco è più grave. Se ci sono molti blocchi e il paziente è abbastanza stabile, può essere eseguito un intervento chirurgico di BIPAS delle arterie coronariche. Questa procedura può essere eseguita sia per STEMI che per NSTMI.